Guardi, su questo io francamente preferisco non scendere troppo nel dettaglio perché è un equilibrio che si tiene insieme. Ci sono almeno tre punti che sono ancora oggetto di discussione e creano un equilibrio diverso. Alla fine va valutato l'equilibrio, per cui io non sono dell'idea che il modo migliore di fare questa trattativa sia dire voglio ottenere questo e poi vederlo annullato in un altro punto. È una trattativa molto complessa, molto tecnica e secondo me davvero bisogna tenere aperte tutte le strade fin quando non si capisce qual è il punto di caduta migliore che si può ottenere. Questo è il modo con cui la sto gestendo. Lei sa che non sono mai entrata nel merito per questa ragione e secondo me, siccome è un tema molto delicato che ci impegna per diversi anni, è importante che gestiamo questa trattativa nel migliore dei modi possibili.